ed eccoci qui alla fine ho scelto le vede spalla milan davvero un'ottima partita direi però io mi domando come cazzo mi ho fatto a perde questo milan io non mi capacito onestamente perché non mi sembra tutto sto squadrone può appareggiare con l'ultima in classifica onestamente per carità spalla nel primo tempo ha fatto una bella partita ha fatto un euro goal direi bellissimo floccari mamma mia da vedere e rivederi a dir poco comunque proprio io non mi capacito come cazzo mi ho fatto a perdere con il milan siamo proprio morti morti e stramorti speriamo domani non fa fare altre figure del merda onestamente perché mi sarei rotto le palle onestamente comunque parlando della partita velocemente primo tempo meglio la spalla secondo meglio il milan l'hanno proprio spinta interale di rigore alla ricerca del parigi alla fine l'hanno ottenuto e per poco non vincere uno anche visto che vicari ha deciso di fare autogol alla fine comunque anche la spalla la vedo abbastanza scricchiolante non peggio del brescia ma un pochettino meglio ma onestamente la vedo alquanto spacciata milan alquanto di scontino però bisogna stare attenti sempre perché ancora mancano parecchie partite e domani bisogna assolutamente vincere però allungare ancora di più e comunque migliori in campo per la spalla secondo me flocker ha fatto un euro goal incredibile non so come cacchio gli è venuto fuori ma però bellissimo gol e leao secondo me quando entrata ha detto una bella sferzata al milan si è visto per me migliori in campo e niente un veloce video vista anche quest'altra partita tra l'altro quelle altre partite davvero pirotecniche un caldo che se mori mamma mia ho visto i giocatori gronda uno proprio mamma mia grondo io che non fa un cazzo figuriamoci loro ho visto comunque parito per le tecniche il verona che vince 3 a 2 se ne ho visto male il 2 a 1 della sandoria non so se è finito o no ho visto tramite notifiche e faccio complimenti a mister ranieri perché se riesce a salvare questa sandoria anche quest'anno è davvero un miracolo visto che li vedo alquanto carenti però con un allenatore della sua esperienza secondo me può farlo anche perché ci sono squadre molto 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 più scarse a mio modo di vedere della sandoria quindi secondo me si salveranno e niente questo è tutto appuntamento a domani per la partita della roma speriamo di non smoccolare perché mi sarei rotto il cacchio onestamente fatemi stare tranquilli ogni tanto e niente questo è tutto e sempre 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 forza roma grazie a tutti